In questo secondo video andiamo alla scoperta dei microparametri, ossia quei parametri che ci permettono di personalizzare il suono del modello fisico in modo dettagliato. Entrando in modalità di editing e premendo il pulsante F3 si accede alla lista dei microparametri. Proviamo a titolo esemplificativo a modificarne alcuni. La massa del martello influenza l'energia trasmessa alla corda variandone la durata dell'impatto. Col martello più pesante si generano riflessioni multiple per un suono più ricco e colorato. Valori negativi portano a suoni meno intensi e più sottili. Lead point è il punto di percussione che nel piano vero non si può modificare essendo fissato dal costruttore. La sua variazione virtuale invece simula lo spostamento della corda rispetto al martello, i valori positivi verso il ponticello, quelli negativi nella direzione opposta. L'effetto sonoro che ne deriva è di un sostanziale cambio del tono dello strumento dovuto alla variazione delle formanti. Lo string resonance regola l'entità del fenomeno fisico detto simpatia, ossia delle vibrazioni aggiuntive delle corde libere, che sono in un certo rapporto di frequenza con la nota suonata. Il parametro damper resonance ha la stessa funzione del parametro precedente, ma nel caso di pedale premuto. Si può anche variare la lunghezza delle corde, che in un gran piano variano da pochi centimetri fino a circa due metri. L'effetto principale è la durata del suono. Nel pianoforte le armoniche più alte vengono assorbite in modi e tempi diversi per i caratteri costruttivi del piano stesso. La modifica di questo parametro varia all'entità di questo assorbimento. è facile immaginare come la combinazione di tutti questi elementi possa consentire il raggiungimento di un numero infinito di suoni. Ne mostriamo alcuni molto diversi tra loro, dal gran coda al verticale, dall'onky-tonky all'electric grand, fino ad un piano preparato per la musica contemporanea, tutti realizzati col modello fisico del pianoforte acustico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.